C'è il rischio concreto di perdere 40 posti di lavoro cancellando un pezzo di storia dell'azione educativa dei salesiani. È drammatica infatti la situazione che sta vivendo il CNOS FAP. A seguito di una procedura di mobilità avviata dai salesiani, numerosi dipendenti gelesi rischiano seriamente di rimanere disoccupati, altri invece tra i pochi fortunati che non perderanno il posto di lavoro saranno costretti ad andare in altre sedi siciliane probabilmente rimpiazzati da colleghi provenienti da Ragusa, Palermo, Catania. In queste condizioni il CNOS di Gela, indipendentemente da chi resterà o da chi andrà via, rischia seriamente di avere vita molto breve e di scomparire per sempre. È il risultato di una trattativa regionale che vedrà il licenziamento di 134 persone su base regionale con una buona parte legata al nostro sito. In questa maniera rischiamo di perdere la nostra peculiarità che è quella della saldatura, della tubisteria e della ristorazione perché quasi buona parte di tutti gli istruttori verranno licenziati ma contemporaneamente chi resterà appiccicato andrà possibilmente a lavorare verso altre sedi. Questo qui anche perché hanno chiuso due sedi, quelle di Catania, di Mister Bianco e di Ragusa, Gela rimarrà ma rimanere a queste condizioni significa che sicuramente fa qualche mese chiusura a dotare. Venendo meno i formatori che conoscono bene il territorio e quindi le problematiche e le criticità che ci sono nel nostro territorio, quindi da qui a breve tempo si potrebbe verificare la chiusura quasi totale dell'NDECNOS che ha ad oggi, diciamo, quei formatori che hanno formato ed educato le migliori maestranze che noi conosciamo tra saldatori, termo idraulici, elettrici e ristorazione e verrebbe meno e quindi si verrebbe a perdere quella formazione ma anche quel rapporto che si è creato anche col territorio, con i giovani che si immetterebbero nelle strade e quindi creando anche della microcriminalità e dando un danno ulteriore al territorio che ormai è martoriato da mille difficoltà. La vicenda del CNOS è stata affrontata ieri nella conferenza dei capigruppo preseduta da Alessandra Acia. È stato deciso di convocare una seduta straordinaria monotematica del Consiglio Comunale alla presenza dell'assessorato alla formazione della regione e dei vertici salesiani. La seduta è prevista per la prossima settimana.